eravate spaventate abbiamo visto cosa dice la televisione russa di noi ci ha chiamato fascisti nazisti che facevamo le cose peggiori ai bambini certo che eravamo spaventate all'inizio cosa pensi ci hanno detto che i fascisti stavano arrivando cosa pensi la prima volta che abbiamo visto un caro armato gli equipaggiamenti militari siamo corse nei boschi voi uomini avete riso quando ci avete visto nasconderci nei cespugli cosa pensi è vero che eravamo spaventate e adesso è tutto a posto va bene perché ci siamo conosciuti ed è normale siete brave persone ci state aiutando specialmente i bambini io ho due bambini grazie mille vogliamo veramente dirvi grazie per non averci abbandonato i russi ci hanno abbandonato ma non voi siete i nostri salvatori ucraini davvero ben fatto noi non dimenticheremo questo la vostra gentilezza salve amici e amiche ho aperto oggi con due donne della regione di kursk che raccontano la loro esperienza di questi soldati ucraini che sono arrivati e niente si commenta da sola la traduzione voi che dite quindi eccoci qui iniziamo con gli aggiornamenti per quanto riguarda il fronte allora abbiamo affrontato sempre i discorsi di questi giorni partendo dalla situazione a Vuledar che è tutto a sud est nella zona di attrito Vuledar è stata interessata da violenti combattimenti un tentativo massiccio di avanzata da parte russa che sono riusciti a raggiungere la strada a ovest questa qui ma a quanto pare gli ucraini ancora hanno la presenza nella zona abitata abitata solo da soldati ormai è da segnalare l'uso di una bomba da 3 tonnellate una fab 3000 lanciata dai russi in quest'area che ha letteralmente raso al suolo un isolato ma comunque gli ucraini stanno continuando a insistere sulla posizione anche se attualmente non sono stati circondati e pare che abbiano ancora a disposizione una via di fuga eventuale in questa direzione verso nord però si tratta ancora di giorni prima che questo piccolo villaggio venga catturato altri cambiamenti importanti non ce ne sono in direzione di Pokrovsk come riportato anche da Mayakovsk l'utilizzo massiccio di reparti meccanizzati da parte russa ha semplicemente incontrato i droni ucraini e l'artiglieria con diverse perdite da parte russa non ci sono grossi cambiamenti significativi se non di poche centinaia di metri specialmente in direzione sud con un'espansione russa verso sud in quest'area ma questo è non ci sono altri cambiamenti in direzione di Pokrovsk mentre verso il centro del settore nella zona est sempre questa avanzata russa è stata viene riportato anche questo da Mayakovsk è iniziato il 26 con una massiccia avanzata da parte russa con reparti meccanizzati ci sono stati circa almeno per quello che è possibile contare per quanto riguarda i video che sono arrivati che hanno iniziato a circolare si possono contare circa 26 mezzi distrutti o danneggiati in quest'area quindi questo tentativo di avanzata da parte russa è stato letteralmente decimato la grande maggioranza delle loro forze sono state distrutte e infatti da giorni non ci sono cambiamenti in questa direzione andiamo avanti nell'area di Wojciask non si segnalano nessun progresso la situazione è rimasta invariata con gli ucraini che hanno liberato il centro di aggregamento la risposta russa è stata quella dell'uso massiccio di artiglieria ed attacchi aerei sulle posizioni ucraine le cose più interessanti le vediamo nell'area di Kursk nella regione di Kursk da cui sono arrivate appunto le immagini di queste donne ma non saranno le uniche notizie che vi porto oggi da questa regione allora partiamo col dire che fra ieri e oggi negli ultimi due giorni i russi hanno ottenuto qualche centinaio di metri un chilometro circa in direzione sud-est qui mentre altra cosa interessante da parte ucraina invece c'è stata un'espansione non è aggiornata qui nella mappa di Deep State ma possiamo vedere diversi report qui c'è una decina di report da parte ucraina e azioni da parte russa che hanno cercato di colpire le posizioni ucraine come vedete la zona di espansione ucraina è andata a interessare completamente il villaggio di Vieseloe che fino a ieri l'altro ieri era conteso quindi tutta quest'area in realtà non è aggiornata su Deep State ma si può considerare consolidata da parte ucraina quindi zoomando un po' indietro vediamo che la situazione è come è rimasta pressoché invariata rispetto a quello che vi avevo portato nei giorni scorsi con la pressione russa verso sud est mentre gli ucraini stanno spingendo in tre direzioni qui qui e qui qui si è aperto un nuovo un nuovo fronte questo è in linea con quello che era stato previsto ampiamente nei giorni scorsi visto che molte delle azioni militari ucraine hanno interessato i ponti del fiume Seim su tutta questa linea con attacchi di precisione condotti dall'aviazione e dall'artiglieria ucraina di conseguenza quest'area è stata indebolita i russi non hanno la possibilità di inviare grossi quantitativi di rinforzi e di conseguenza questa avanzata questo nuovo fronte che gli ucraini hanno aperto in questa direzione in questa e qui è diciamo coerente con l'azione che era stata condotta nel mese corrente nel mese scorso e questo questa è la situazione al fronte da un punto di vista strategico invece le cose sono piuttosto interessanti infatti in queste ore gli ucraini hanno portato avanti diversi attacchi strategici con droni prima di parlare di questo però volevo chiudere un attimo il discorso regione di Kursk perché insomma stanno scadendo è scaduto anzi oggi il termine per cui secondo Putin entro la fine di settembre i russi avrebbero ripreso in mano la regione di Kursk quindi mi dispiace Vladimirovich la situazione è ancora piuttosto fuori controllo che dici tutta quest'area è ancora perfettamente in mano ucraina e non credo proprio che una stima di fine settembre metà ottobre possa essere fattibile per le forze russe di respingere questa invasione ucraina ora andiamo avanti parlando appunto di discorsi strategici ci sono degli sviluppi piuttosto interessanti allora intanto il colonnello russo Alexei Kolometsyev credo si dica così Kolometsyev è stato eliminato il 27 settembre due giorni fa nella regione di Mosca ora la notizia interessante non è tanto il fatto che questo ufficiale sia caduto anche se era esperto nel sviluppo e nell'addestramento l'utilizzo dei droni il che il che mi fa piuttosto ridere voglio dire io adesso apro una piccola parentesi nel senso il pilotaggio dei droni non è così difficile sì per una persona completamente digiuna di aviazione lo è chiaramente però in realtà sono dei dispositivi che hanno delle degli automatismi per cui se tu lasci i comandi rimangono praticamente fermi in aria non sono come aerei che precipitano o elicotteri che si pilotano manualmente quindi d'accordo ok ci possono essere delle procedure di addestramento però lo capisco ora in ogni caso la cosa interessante di questa notizia non è l'eliminazione in sé del del VIP militare in realtà è il fatto che non sarà l'unica notizia che vi porto oggi ma il fatto che esistono e si stanno dimostrando operative delle forze all'interno della Russia che conducono questo tipo di operazioni che siano infiltrati ucraini ma si sta parlando sempre di più di resistenza locale di partigiani russi il che fa ben sperare voglio dire è un'ottima notizia più azioni di questo tipo significa che c'è qualcosa di grosso che si sta muovendo all'interno della Russia e che questo è solo probabilmente il preludio di una sistematica operazione militare atta a sostituire i vertici e chissà che non vada a colpire anche più in alto passiamo avanti qualche giorno fa abbiamo ampiamente trattato l'argomento del di del grosso deposito di munizioni russo che è stato colpito a Toreps ora c'è stata oggi la conferma che il deposito conteneva un'ampia riserva di missili terra-aria S400 per i sistemi S400 il che è un'ottima notizia oddio già nelle prime ore dell'attacco l'enorme esplosione che aveva addirittura fatto vibrare il terreno attivando i sismografi sismometri per una scala Richter pari a 3 circa quindi l'esplosione è stata così intensa anche grazie all'enorme quantità di esplosivo contenuto in questi missili che sono andati distrutti quindi è stato davvero davvero un gran colpo per l'azione strategica ucraina andiamo avanti un altro di questi attacchi che vengono condotti in profondità quindi a cui stiamo assistendo in questi giorni da parte anche qui si parla di operazione partigiana è avvenuto nella regione di Samara e ha colpito un ponte ferroviario c'è un video che circola questo qui si vede il treno passare ma in realtà il treno è riuscito a passare il ponte è stato leggermente danneggiato questo è la localizzazione dell'area che è interessato questo attacco quindi stiamo parlando di oltre mille chilometri dal fronte ucraino adesso zoomiamo andiamo a vedere proprio il ponte che è stato colpito che è questo qui esattamente questo ponte qui il treno che si vede transitare è passato su questo ponte quindi è stato leggermente colpito si vedono si vedono i danni ci sono le varie strutture intorno al ponte che sono state danneggiate l'area in sostanza è stata bloccata il traffico ferroviario nell'area è stato bloccato per il momento ok allora andiamo avanti chiudo questo video altri attacchi sono arrivati nella regione di Stalingrado che oggi si chiama Volgograd è stata la rinominata nel 1961 in questo video è più un audio si sentono gli spari in realtà si tratta dell'antiaerea probabilmente di cannoncini a tiro rapido che sono andati a rispondere a un attacco dronico che è avvenuto stanotte e che ha colpito Stalingrado è questa diventata famosissima non so se avete visto il film il nemico alle porte con la ricostruzione dello sbarco uno dei tanti assalti in realtà condotti dai russi nella seconda guerra mondiale è avvenuto su questa spiaggia qui chiamiamola spiaggia i due schieramenti nella seconda guerra mondiale hanno combattuto intorno a queste due sponde con il ponte in mezzo quest'area quindi stiamo parlando della regione del Rostov questo deposito è stato colpito di nuovo quindi è stato un ottimo altro punto a favore per le azioni strategiche ucraine questo questo deposito qui come vediamo nei satellite che si trova poco a nord pochi chilometri a nord della ex Stalingrado come vedete nord ovest di Stalingrado una quindicina di chilometri ed è stato colpito grossissime esplosioni non posso mostrarvi il video sono invece state segnalate sull'aeroporto di Ejsk qui questo aeroporto minore in realtà sembra avere giusto un su 25 operativo però questa è un'immagine vecchia in realtà quindi non sappiamo cosa è presente oggi cosa era presente almeno fino a ieri ci sono aerei da trasporto Tupolev e qualche pattugliatore un paio di pattugliatori marittimi questo è un altro aereo da trasporto russo non sembra essere un aeroporto attivo per i bombardieri militari ma ripeto questa è una situazione vecchia non so come era cosa c'era schierato ieri circola un video che non vi posso mostrare lo passo in descrizione dove c'è un grosso veramente grosso botto sopra quest'aeroporto significa che qualcosa è stato colpito se non nel deposito di munizioni qualcosa di grosso sulla pista probabilmente e quindi dobbiamo aspettare le prossime ore per avere notizie più certe una delle cose però interessanti di questo attacco che viene riportato è che pare notizia da confermare che sono stati distrutti un deposito che conteneva 60 missili Kinjal e che sia stato eliminato il generale russo Dvornikov sulla pista notizia da confermare quindi prendiamola con le pinze a volte queste notizie che vi do sono confermate il giorno dopo altre volte no la maggior parte si però devo dire devo essere onesto andiamo avanti quindi oltre a questi attacchi strategici poi segnalo altre notizie ieri ha circolato questo video dove si vede un gruppo di una 7-8 soldati russi che hanno deciso di arrendersi nella zona di Kurakove ora questo video ve lo passo in descrizione non posso farvelo vedere ma quello che succede è terribile nel senso questo gruppo di soldati si è arreso ha alzato le mani ha iniziato a seguire il classico drone ucraino che lì avrebbe portati al sicuro ma sono stati presi di mira dall'artiglieria russa e sono stati centrati in pieno non credo che sia sopravvissuto nessuno però comunque è un gesto terribile ancora che dimostra la brutalità con cui opera l'esercito russo che preferisce far fuori i propri soldati in queste circostanze passiamo oltre con questa bella immagine ed è c'è anche un video in realtà che volevo mostrarvi questo qui che ci parla degli F-16 dei Paesi Bassi che hanno raggiunto la loro fine operativa non il ciclo di vita della macchina ma questi aeroplani verranno venduti molti invece verranno trasferiti in Ucraina verranno ceduti all'Ucraina quindi davvero un'ottima notizia questa è la livrea speciale credo che sia un 46 quello 45esimo anno di attività e niente questa è un'ottima notizia è anche una bella un bel volo in formazione di questi aeroplani sono circolate altre voci con questa formazione celebrativa il classico rito che viene fatto anche in Italia e questo è quanto quindi bene andiamo avanti passiamo in questo video si vede fra l'altro un passaggio con un Su-27 e un F-16 che è una formazione piuttosto insolita il Su-27 è tipo grande tre volte un F-16 per dimensioni superficialare e peso poi andiamo avanti questo un altro video con i classici oddio speriamo non mi ok non voglio ricevere demonizzazione per l'audio demonizzazione ma ci sono i classici due Mi-24 ucraini che fanno un passaggio radente altre volte li ho visti questi due piloti sono fenomenali la cosa bella è che loro continuano a volare con questo Mi-24 M della prima serie che ha ancora il cannoncino brandeggiabile sotto il muso la versione più recente ha un cannoncino più grosso sul fianco poi vabbè loro lo hanno aggiornato perché si vede che ha montato i filtri vediamo aspettate eccola fermo ecco qua si vedono i filtri per i motori antiparticolato o polveri poi vabbè anche all'interno dell'abitacolo ci sono stati degli aggiornamenti sicuramente i motori per cui si il frame originale la cellula è ancora quella degli anni 70 ma comunque l'elicottero è stato aggiornato è un grosso elicottero d'attacco non è paragonabile alle controparti occidentali è una specie di grosso elicottero che può trasportare fino a quattro soldati qualcosa del genere eventualmente però in genere o si fa la missione d'attacco al suolo o si fa trasporto non entrambe le cose mai sempre per restare nel tema elicotteri questo è un altro video speriamo non venga all'audio allora questo è un altro video che mostra un Mi-24 un elicottero da trasporto sempre dell'era sovietica anche questo in dotazione all'aviazione ucraina da questo elicottero poi fu sviluppato la versione da attacco al suolo il Mi-24 con cui condivide alcune parti i motori alcune soluzioni è interessante perché il classico elicottero da trasporto russo è onnipresente in tutte le parti del mondo oltre alla capacità di trasporto che è consistente l'elicottero può avere anche spesso ha dei piloni dove possono essere montati dei lanciarazzi o delle mitragliatrici pesanti e quindi non è insolito vederlo anche armato fra l'altro in questa immagine vediamo un addetto che in posa ci mostra proprio 16 16 S8 che possono essere montati nelle rastrelliere per lanciare i razzi questi sono i classici razzi non guidati russi che hanno una discreta capacità esplosiva possono avere delle testate penetrazione esplosiva incendiaria dipende ma non sempre questi elicotteri fanno azioni di guerra scusate l'audio infatti qualche giorno fa vi avevo proposto il video di un paio di questi elicotteri che lasciavano un pacco a un ragazzo in un campo e questo è un altro di quei video come vedete l'elicottero sorvola una casa in una condizione di miseria tremenda in cui si vede un ragazzo salutare ora vivono veramente in un'aperta campagna completamente isolati quindi si sono resi conto vedete che c'erano delle persone con la bandiera ucraina tre persone che salutavano e sono decisi di tornare e questo giro hanno portato viveri e doni quindi è un video molto bello come vedete salutano si sbracciano per ringraziare allora lascio questa immagine ferma provo a ingrandirla faccio una richiesta a voi che mi seguite da un po' so che qualcuno parla l'ucraino o il russo gentilmente scrivetemi nei commenti cosa significa questo biglietto perché vorrei davvero sapere cosa cosa contiene sarei veramente grato se lo faceste qui sotto quindi scrivete cosa dice quindi chiudiamo con due notizie simpatiche allora non ho parlato di questa notizia ma come sapete qualcuno l'avrà letto sicuramente al festival del cinema di venezia in italia siamo stati capaci di accogliere un film di mera propaganda russa una cosa insomma abbastanza indecente che il cui messaggio il messaggio di questo film era quello di rappresentare i soldati russi nel loro sforzo patriottico di liberare il mondo dalla insomma dall'ucraina in realtà solo in italia siamo stati capaci di accogliere questo film perché al zurich international film festival lo hanno respinto quindi non sarà proiettato per concludere il video di oggi vi porto questo video di lavrov il nostro clown preferito in questo video c'è un accordo memorabile uno di quelli proprio che resteranno per sempre nella storia è un accordo memorabile fra lavrov e rappresentante del Burkina Fasa stanno siglando un accordo sul non uso delle armi nello spazio è davvero importante probabilmente la Russia si sente minacciata dal Burkina Fasa a livello spaziale e questo è quanto cari amici come sempre se volete sostenermi qui sotto trovate tutti i bottoncini di youtube per farlo iscrivetevi se non lo avete ancora fatto lasciate un mi piace e come sempre un abbraccio alla prossima